Buongiorno dalla redazione del Tg della mobilità. Cantieri in città, nuova chiusura in vista per Ponte Garibaldi lunedì 26 agosto. Inizieranno lavori sulla corsia tramviaria che sarà chiusa nei due sensi di marcia. Stop alla circolazione anche sulla corsia laterale in direzione di Trastevere. Per il trasporto pubblico saranno deviate le linee H e 8 e poi di notte la N8. Le altre notizie al via da oggi su quattro linee delle ferrovie regionali in modifiche alla circolazione per lavori di potenziamento delle infrastrutture nella stazione Termini. Le modifiche interessano le linee FL2, FL4, FL6 e Roma-Ancona.